Credo di interpretare i sentimenti di tutti per un grazie proprio a Don Antonio. A me è piaciuto e credo anche a voi proprio per la genuinità, anche per la schiettezza con cui ci ha fatto riflettere. Grazie. Noi ci ricorderemo senz'altro di questa sera, dei consigli che ci ha dato, delle riflessioni profonde, semplici. A me è piaciuto anche questo. Quando una persona è semplice arriva il cuore, mi sembra, no? E quindi rimangono dentro. Quindi ci ricorderemo. Spero che Don Antonio si ricordi di Bussolengo, nelle preghiere, ma anche così, insomma, nella fraternità. Noi vorremmo lasciarle anche un piccolo segno di Bussolengo, anche perché ci ricordiamo, ci è venuto in mente, ci è stato detto, che lei sta completando quasi, posso dirgli, 80 anni. Quindi, questo è un piccolo segno, è una riproduzione. Dopo, se vuole, lo vede con calma. Comunque è la riproduzione del nostro quadro, della Madonna Assunta, quello là. Grazie. Ecco. E tantori anche perché, appunto, questi 80 anni sono stati vissuti, 80 ormai, e penso che ne avrà altrettanti da vivere bene. Perché l'aggettivo li ha vissuti bene e altrettanti, forse, finché Dio vorrà, ecco. No, se devo morire senza debiti, credo che ho almeno altri 80 anni da scontare. Grazie a tutti. Buonanotte e arrivederci.